Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Minecraft Day Parkour Questa qua è la prima puntata di una serie Ecco qua, si incomincia da qui, ora leggiamo le regole insieme al nostro Giuseppe De Palma Ciao ragazzi, allora, è un amico che sta vicino a me Allora, benvenuti in questa custom app, spero che vi piaccia Arrivederci e leggete le regole Cazzone Non usare to my intent, come l'ha scritto male Non spaccare e piazzare i blocchi Non usare mod Buone sclerate a tutti Non preoccupare Se barate che c'è gusto Non vi preoccupare Non lagare niente Non so fare niente Come vedete, ogni volta che si cade nella lava, si incomincia da capo Ragazzi, io non so fare niente al parkour Non so perché ho scelto la marca parkour Ora saltiamo le parti e quando avremo finito vi faremo... riprenderemo Ciao a tutti Già Già Ragazzi, dai, sto scherzando Non vi preoccupate Se sbaglieremo per molte volte Salteremo le parti Ma ora continuiamo Ce l'ho fatta? No Ragazzi, io non so nemmeno come ho scelto la marca parkour Mi ha consigliato un amico C'è un buco là Viaggio là Un altro buco là E poi non lo so più Poi farò un survival E spero che vi piaccia Ragazzi, parlando con voi ce l'ho fatta Portate fortuna No Sentite, ci rivediamo Il nostro amico vuole continuare Non ce l'ha a fare però Ragazzi, come sapete mettete mi piace Iscrivetevi, commentate Se qualcosa non vi va bene Te l'ho detto molte parole Se qualcosa non va bene Mettetelo nei commenti Gli aiuti vanno sempre bene I consigli Ci darete una gran mano se ci mettete mi piace Beh, bisogna scendere Anche molto Ce l'ho fatta Meno male Torcia Non so perché ho preso la torcia E la carne che ci serve stiamo in un'altra Come si dice? Creativa Creativa Ora, il gran salto Un altro salto Qua se cado, stacco ragazzi Che non zucca Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ci vediamo dopo la pausa Yeah Ragazzi siamo tornati Ce l'ho fatta Ho caduto un miliardo di volte Un miliardo Ma un miliardo Sono passato i secoli Sono vecchio E ora ce l'ho fatta Ragazzi c'era un cartello prima Eccolo là E ha detto che Salto provato Ma però è stato molto difficile Siamo caduti centinaia e centinaia di volte E poi ha detto un altro cartello Se qua è il checkpoint Però qua non si è uscito Se cado Devo risparmiare Perché non vuoi far tutto da capo Oh già sapete voi Io sono In futuro dovremo mettere un altro cartello Con la scritta checkpoint Sta andando tutto all'incontro Ragazzi Se cado un sacco di volte Farò tutto il video staccando Ma non staccando in quel senso Taglieremo le parti Come si corre Il nostro amico Ci ha fatto qualche spinendo Oh Maradona Non ce la fa Non portare peste Ce l'ha fatta Ce la fa Maradona Ragazzi Il nostro amico si è allenato Speriamo che ora non cade Mi sono allenato Perché sono passati secoli Ma secoli Ma secoli Ma secoli Pensate sono passati giorni Non è vero ragazzi Sono andato nell'acqua Come vedete Se cadeva nella lava Dovevo fare da capo Invece non sono caduta Perché è un pro Quella era una lava lavosa Questa è la parte Un po' difficile Anzi molto Allora ragazzi Io Devo dire la verità Ho provato un sacco di volte Questo parkour Quel mattone del cavolo Non riesco mai a fare Ragazzi qua Beste il mio Sentite ragazzi No non voglio staccare Oh perché Adesso vedrò un video di Scusate la parola Di popò Sì Maradona Sono in pro ragazzi Nessuno lo sa Però io solo lo so Ma tutti i quali mi schifano Aspettate ragazzi Aspettiamo che ce la può fare Ancora lei Ancora lei Il terzo Salto incredibile Ancora lui Gran imbroglione lui Ma che imbroglione Ho fatto un salto da maestri Ora chi vede questo video Tutti lo dicono Che non sono imbroglioni Vi metteremo Il link sotto descrizione Per scaricare questa mappa Allora ragazzi Ancora lui Fa un sacco di mamma mia Ragazzi Ma salto Ragazzi sono troppo pro Ragazzi questo video Ora cadrà me lo sento Proprio bisogno da domani Se cado Aiuto Ancora lui Mamma mia Eh che salto Favoloso Ancora lei Di nuovo Prova il salto Ancora lui Ancora lui Ancora lui Questo si chiama salto ad effetto Questa qui è una parte molto difficile Quando salterà Quei bastoni andranno Ragazzi Che salto incredibile Ancora lui Ancora lui Sinceramente questo è un video di Un video di Ah ragazzi Non ho fatto un salto sulla mia vita Un bel salto Ancora lei Ancora lei Ragazzi non ci fate caso Che io sto cadendo nella lava Sto facendo dei salti da pro Ancora lei Ancora lei Ancora lui Salto da pro Salto da pro E cade di nuovo Scusateci Però Ancora lui Ancora lui Ancora lui Ancora lui Mamma mia Salto da grande Cazzo In piscina Aspettate Buttatevi che morbido Qui dice il cartello Ma se invece Facciamo in questo modo Ma se invece Facciamo In questo modo Ecco Aspettate ragazzi Non voglio imbrogliare Lui è stato scemo Ma se invece Facciamo in questo modo Arriviamo Se lui Spinella Ragazzi Non so nemmeno Ancora un salto Sentite Questo ragazzo È molto bravo A giocare Ma appena Fai video Diventa Timido È l'eccessità Di È crack Ragazzi Ora basta Mi sono incazzato Quando mi incazzo Sono un pro Se non ci vedete Guardate È un pro È caduto nell'acqua Visto Che pro Io non ci sarei mai riuscito A cadere nell'acqua Ragazzi Quanti minuti sto? Bello Sette minuti Proprio figo Allora Ancora Beh Alla fine Di questo tragitto Dovremmo andare Nell'end Ma fortunatamente Il drago Già l'abbiamo Distrutto Perché Non volevo stare Altra maggiore Perché Altrimenti Il video Durava troppo E non si caricava Ok Ora dobbiamo scegliere Uno di questi Allora Io mi sono riuscito Io vado Io decido al centro Vai Giuseppe Al centro Ah no 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 A sinistra No Sinistra Sinistra Vediamo che cavolo Sta scritto qua Allora Hai sbagliato Ti do un cazzottino A sinistra Io avevo detto Io a sinistra No E tu porti Sfortuna Dopo Volete scommettere Che vinco io È a sinistra Ragazzi Se vince lui Farà Lui Vi dà I video A sinistra No Adesso Ho vinto io No Aspetta Ora esce l'acqua Non è vero Aspetta Ora è a sinistra Io ho scelto la sinistra Guardate E Ola Visto Ho vinto io Visto io Perché ho detto Alla destra Sto la sinistra Ragazzi Voi lo sapete Meno male No no ragazzi Non vi preoccupate Allora ragazzi Troppe i spinelli Per favore Allora Voglio vedere Scegli mo Io scelgo Centro No io scelgo la destra Scelgo centro 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 Io ho detto centro Ragazzi lo sapete Che io dico centro Visto? Io sono sempre fortunato È spiato eh No Ragazzi come Avete Allora Vediamo qua che c'è scritto Grande Espeti livelli I creatori sono Mariana e Peppe Ragazzi Non sono io Non mi preoccupate Sarei molto felice Di aver completato Complet I livelli Completato i livelli Scegli una delle tre chest A me Io ho già la scelta Cioè ragazzi Que È mia E ora ragazzi Andiamo nel villaggio Ragazzi Que Ho fatto un parkour Però Sentite ragazzi Tra poco toglieremo Perché Cos'nò ci metterà Troppo a caricare il video No no ragazzi Non è vero Vuoi stare un po' con voi La mancanza Allora ragazzi Questo parkour Che ho fatto io No Non l'ho Che ho creato io Ora ho fatto con voi Ho spezzato tutte le parti Pochissime È durato pochissimi minuti E cioè Vi devo dire due cose Prima cosa Io sono il fratello Di Giuseppe De Palma Non so Giuseppe Mi chiamo Raffaele E il mio fratello È riuscito È riuscito di carcere Non è vero L'ho fatto vedere il video E ragazzi Come vedete Io sono molto scarso E il mio fratello È forte Se voi non ci credete Andiamo a aprire Un po' il villaggio Vediamo un po' il villaggio Ragazzi Chiudiamo a dieci minuti Tanto mio fratello Allora Allora Fateci caso Non è vero Ragazzi Ragazzi Odla Sono troppo figo Sono toni figi Chi sa perché Quando piazza un blocco Non si muovono i numeri Forse saranno infiniti Non è vero ragazzi Io non sto in creativa Sono soltanto in creativa Ah non è vero ragazzi Vediamo la prossima Episodio Anzi Mi raccomando Mettete mi piace E al prossimo episodio Ciao a tutti